benvenuti benvenuti a questa nuova edizione 2021 dell'iFidelity con Zaini siamo riusciti a organizzare un evento abbastanza interessante kawai italia ha portato due pianoforti veramente interessanti shigeru tre quarti di coda che avete qua dietro e un aures 500 che trovate nella nostra sala sotto come spiritorino daremo la possibilità di riascoltare questa registrazione nella sala perché viene registrata in chiave binaurale questa struttura che vedete di qua con queste orecchie in pratica è una testa artificiale composta da delle orecchie morfologicamente anatomiche e due capsule microfoniche sono solo due microfoni però sentono come l'essere umano sente quindi mappa la posizione dello spazio degli strumenti e ci fa percepire esattamente come se fossimo lì quindi successivamente tra un duo rette sarà disponibile la possibilità di riascoltarle e capire quello che potrebbe dove può arrivare oggi l'alta fedeltà ora lascio la parola a kawai italia che vi spiega qualche dettaglio dello strumento perché uno strumento molto particolare e merita essere rappresentato come come si deve ok giustamente la legge mi dice il microfono e vorrei presentarvi velocemente questo strumento shigeru kawai shigeru kawai è una linea particolare dei pianoforti di questo brand mondiale appunto kawai ma una particolarità è sostanzialmente uno strumento fatto a mano quindi sia dai tagli più piccoli che a quelli più importanti sia il gran cosa da concerto che lo shigeru e x in questo caso noi ci troviamo di fronte un sk7 siamo due metri trenta per chi avvezzo allo strumento pianoforte è uno strumento già molto importante è uno strumento da concerto si è preferito portare questo rispetto al garancoda per una questione anche acustica rispetto alla risposta della sala soprattutto per il fatto perché registreremo questo concerto di umberto ruboni con la modalità binaurale così come è stato precedentemente precedentemente spiegato da andrea ricci di spirito rino voglio ovviamente ringraziare spirito rino per per questa diciamo questa joint venture chiamalo così piattino pianoforti e che di lì era importante di torino che anche concessionario ovviamente kawai e kawai italia che diciamo questa sinergia siamo riusciti a creare questo evento particolare perché voi comunque assisterete un concerto che verrà registrato quindi voi farete parte del concerto ok quindi chiaramente vi chiediamo di essere più silenziosi possibile di spegnere i telefoni qualora ve li siate dimenticati ma voi siete un pubblico attento e vorrei chiamare adesso qua sul palco umberto ruboni e che ci suonerà un brano di repertori assolutamente importante che la sonata di list e quindi lascerei la parola anzi la musica a umberto con un applauso grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.